Ho inserito il prezzemolo, adesso faccio sciogliere per bene, guardate che bella. Ingredienti. Per fare questa pasta serve avere dell'ottima sopprestata un po' dura calabrese o dolce piccante, farla bollire, da quando bolle la mettete in acqua fredda e la fate bollire dal bollore 35 minuti. Poi togliete la pelle della salsiccia, fate il sugo di pomodoro e buttate la salsiccia a cuocere per un'ora. Dopo fate questa fantastica pasta mista. Ho voluto fare le piste, non le solite penne, con anduja, olio 100% italiano, sugo di pomodoro e provo la salsiccia dopo. E questo è il risultato. E adesso non la vado a mangiare. Cosa ne pensate? Questa ricetta merita tanto, come visualizzazioni, come like e come iscrizioni. Vi ringrazio, guardate che bella. Vi ringrazio, sempre con BoboChef. Iscriviti, siamo quasi a 500, ok? Ciao! Ciao, iscriviti! Viva l'Italia, viva la cucina italiana e viva la Calabria!